buonasera cari ragazzi pelle amanti delle armi e poligono dando ringraziamo sempre il nostro sponsor l'armeria fratelli puttignano di gravina in puglia sono cercate su google non c'è 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 che ci ha fornito le cuffie bellissime che sicuramente io lascio da accese andavo spettacolari nel momento che le metti tu per ascoltare tutto quello che c'è intorno gli accendi nel momento che c'è un'esplosione uno sparo chiude e protegge l'orecchio andiamo avanti con la dotazione venuti vi dico tutti i dati i prezzi il link mi interessa né poi abbiamo gli occhiali obbligatori sempre come le cuffie nel poligono per essere più sexy quando spari questi sono per proteggere gli occhi e di questa colorazione sono particolarmente speciali e bellissimi perché si vedono meglio i bersaglio illumina pop a giorno sono bellissime faccio una prova vedete e poi la cosa più bella che ho provata oggi bellissima che cos'è che cosa dici dici ragazzi questo è spettacolare della online praticamente è una torcia laser per pistola o fucile vietato usarlo a caccia solo poligono o software ma software è sprecato andiamo avanti io l'ho montato su una cz shadow 2 bellissima pistola non vi sto a dire sempre i dati le cose mettiamo subito in sicurezza l'arma e scarica e abbiamo montato qui il bellissimo e fantastico o light l'ho visto nei video americani mi è piaciuto tantissimo praticamente si può attivare da qui o dall'altro lato se si è ambidestro tre modalità la prima laser provata oggi al poligono spettacolare seconda modalità luce e laser non so se riesco a far vedere anche la troppo forte la luce terza modalità solo luce sono veramente felicissimo di questo acquisto lo consiglio a chi oltre a chi piace le armi è veramente un acquisto perfetto io ringrazio sempre la armeria fratelli potignano qualsiasi cosa vi serve ragazzi sono sempre disponibili anche a mezzanotte di rispondono a whatsapp dunque che vi devo dire se avete domande richieste volete sapere qualcosa in più me lo chiedete perché a me non mi va di dire tutte le specifiche tecniche perché stanno su internet dove ragazzi un abbraccio e buona serata